com'è che dissi quella volta vi amo bastardi tutti dal mister in giù oggi ero pronto veramente a sfancularvi tutti dal mister all'ultimo perché oggi veramente non avrei salvato nessuno dal mister per primo mister per primo perché oggi ho visto molta confusione molti casini ho visto veramente il crollo stasera devo dirlo ho visto veramente il crollo però io certe volte credo nel destino credo nel destino e oggi io ho rivisto una scena che ho visto nel 94 ai mondiali italia norvegia la sostituzione di baggio stavolta lo confesso quando ha tolto bravi ci ho detto ma queste qua questo serie si è rincitrullito del tutto è veramente stentavo stentavo stavolta a trovare un benché si è mangiato un gol veramente che una vendetta ma su questo sappiamo lucio per me è capitano futuro e lo sapete poi c'è la regalina l'incazzo di cambiasso i cambi una difesa veramente senza senso si confesso con rugani avremmo sofferto meno però ragazzi si alexandro e di alexandro l'errore sul primo gol ma ma gli altri due hanno fatto cagare cagare peggio di alexandro stasera peggio di alexandro stasera 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 chi avrei salvato chi c'era da salvare stasera rabbio e basta rabbio sono rabbio sono rabbio c'era da salvare stasera poi però io tra i visani non lo reggo ho visto solo il video ho tolto l'audio e ho ascoltato la cronaca di Radio Bianconira e devo dire che ero d'accordo con Santarelli a questo punto ho visto l'abisso io oggi ho visto veramente l'abisso credetemi io ho visto una squadra che non ce l'ha più ho visto una squadra che non c'è più però poi arrivano i cambi esce cambiato entra UEA e ho pensato porca puttana non come Santarelli di Radio Bianconira però siamo quasi lì poi quando ho visto preparare che stavano entrando Ildiz e Milik ok fa come a Cagliari poi ho visto riuscire Vlaovic e ho pensato ma questo è impazzito ma questo è impazzito no stavolta ti avrei massacrato io per primo mister stasera oggi ti avrei massacrato stasera poi vedi come sono i segni del destino vedi come sono i segni del destino in quel 23 giugno se non sbaglio del 94 con l'Italia Norvegia quando fu espulso Pagliuca per un fallo perché tocca la mano con la palla con le mani fuori aria fuori aria su un fuorigioco sbagliato dalla difesa in una partita dove veramente non c'è nel Baresi che si rompe il menisco Maldini che zoppo cioè sa chi toglie Baggio il nostro migliore il giocatore più atteso un po' tutta Italia insomma questo è impazzito no ebbe ragione lui quella volta ebbe ragione lui e non solo dal punto di vista del risultato perché lì serviva quello di Scandinavi che erano una bella squadra ma piuttosto lenta lì serviva ovviare all'inferiorità numerica con grande pressing e il dinamismo cosa che Baggio non aveva schierò signori centrocampista di sinistra con Casiraghi unica punta ebbene ebbe ragione lui la Norvegia non fece un tiro in porta nonostante noi si era in dieci non facevamo una partita tecnicamente eccelsa però una partita di cuore enorme che vincemmo con gol di Dino Baggio la Norvegia non fece un tiro in porta in 11 contro 10 e lì ebbe ragione Sacchi oggi con quelle sostituzioni Milik per Vlaovic UEA per McKennie UEA per Cambiaso ho visto l'abisso e poi chi la decide Milik su assist di UEA guardate come cazzo è il calcio delle volte guardate perché delle volte ci innamoria sarà stato culo può essere ma serve anche quello serve anche quello prendiamolo come un segno del destino come un segno un segno qualcosa di imperscrutabile non lo so io passo per Allegriano non me ne vergogno sinceramente ma io non è che sono Allegriano intanto non ho mai fatto l'allenatore quindi giocato a calcio sì ma non ho mai fatto l'allenatore quindi non mi permetto di poi io appartengo a una generazione dove le gerarchie i ruoli sono sacri anzi io ero considerato un mezzo ribelle allora oggi invece non è così e uno viene dileggiato massacrato oggi l'avrei mollato anche io lo dico oggi lo avrei mollato anche io perché oggi era proprio palese che si era sfasciato tutto poi arrivano quei segni quei segni no perché io non sopporto il tutti contro uno io non l'ho mai sopportato a prescindere dalle ragioni dai torti io il tutti contro uno non l'ho mai sopportato io le campagne d'odio non le ho mai sopportate forse per la mia storia politica non lo so ma delle volte credo che nel destino ci siano veramente dei disegni poi magari la perdiamo 4 a 0 la finale attenzione non abbiamo vinto un cazzo ancora perché che sia fiorentina che sia soprattutto atalanta te la devi comunque giocare e adesso la dico io non avremo Locatelli in finale perché è squalificato spero si giochi col tridente quella cazzo di finale perché a me della Champions io ripeto frega cazzi non si arriva in Champions il signor John Erkan metta mano al portafogli non me ne frega un cazzo di partecipare per di andare in Champions giusto per partecipare non me ne frega un cazzo preferisco vincere un trofeo io a maggior ragione che dal prossimo anno non ci sono più di pescaggi in Europa League quindi dicevo poi delle volte guardate come cazzo è il calcio l'imperscrutabile accade l'imperscrutabile come sempre in quel mondiale del 94 con la Nigeria altra partita anche lì sacchi questa volta con più fortuna ci azzeccò o meglio sempre in dieci Italia Nigeria Baggio aveva fatto stava facendo una partita da cani Roberto Baggio una partita da cani all'improvviso coppia d'attacco era Baggio Signori quella partita lì o no Signori giocava centrocampista esterno non è vero il capocannoniere del campionato il signor Sacchi Baggio Casiraghi no Baggio Massaro era la coppia la coppia durante Italia Nigeria all'improvviso si scalda a zola e tutti si aspettavano la sostituzione di Baggio lui che fa? toglie Signori ma io l'ho capito perché tolse Signori Sacchi è un rancoroso ok sono stato massacrato per la sostituzione di Baggio con la Norvegia se devo andare a fondo tu vieni con me penso che sia successo questo se ho poco poco conosco le dinamiche di sfogliatoio io penso che a nulla perché sa chi è uno rancoroso ok io vado a fondo ma tu vieni con me e tenne Baggio zola fu espulso da quel pezzo di merda dell'arbitro messicano Brizio Carter siamo praticamente già fuori già con un piede e mezzo sull'aereo per tornare in Italia fra pomodori cetrioli ortaggi e poi Baggio ti indovina quel colpo di biliardo dopo che era stato praticamente spettatore non pagante nelle precedenti partite ecco io stasera ho rivisto USA 94 ho rivisto la nazionale di USA 94 stasera in questa semifinale di ritorno di Coppa Italia in genere quando vedi l'abisso poi ti salvi lì c'è la reazione lì c'è la reazione un altro esempio nella storia della Juventus Juve Paris Saint Germain nel 93 primo tempo sotto di un gol squadra contestata e che squadra era quella una squadra che somigliava molto come composizione alla Juve di Pirlo tanti attaccati ma un centrocampo francamente di scarsa qualità una difesa così così quella Juve lì Juve fischiata contestata all'improvviso si accende il genio Roby Baggio che quella sera decide di vincere la Coppa UEFA il pallone d'oro perché farà un mese di aprile e maggio strepitoso ecco all'inferno e ritorno all'inferno e ritorno così è stata la partita di stasera detto fra noi la Juve non ha neanche giocato peggio di altre volte stasera però troppo sterili in avanti oggi a mancare è stata clamorosamente la difesa perché baricentro più avanzato presi di infine vabbè tolti il primo gol sul calcio d'angolo ma le occasioni avute da Casteggianos eh tutti in contropiede sul filo del fuorigioco che vi dicevo io cosa vi ho sempre detto io perché Allegri gioca con la linea bassa con la difesa bassa perché se lascia spazio quelle sono le forze è vero è vero magari io avrei schierato Rugani e non Alessandro questo è poco ma sicuro ma anche Danilo e Bremer l'hanno fatto cagare e a spruzzo stasera peggio di Alessandro e questo vi dice un'altra roba l'importanza di Gatti in questa squadra qui l'importanza di Gatti lo spirito la grinta la cazzimma la fame di questo ragazzo quanto è quanto è importante quel ragazzo in campo delle volte non solo se vi fuori classe a decidere ma Furino aveva due piedi quadrati eppure era l'anima di quella Juventus degli anni 70 Furino aveva due piedi orripilanti ma era l'anima di quella Juventus non parliamo poi di Gattuso al Milan non parliamo poi di Gattuso al Milan e alla Nazionale ci sono certi giocatori che sono imprescindibili non tanto per le qualità tecniche quanto per la cazzimma e il carattere e porca puttana se si sentite l'assenza di Gatti stasera ragazzi e porca puttana se gli chiedo scusa e mi rimangio tutto quello che gli dissi dopo Juve Monza 0-2 io me ne ricordo le parole che dissi a Gatti dopo Juve Monza 0-2 Gatti non è un giocatore della Serie A dissi invece non solo giocatore della Serie A ma questo il mio pensiero è questo Blaovic capitano Gatti dice se si deve ripartire dalla Juventinità si parta da questi due si parta da questi due un motivo di soddisfazione e chiudo il video è pensare ai tanti gufi no lasciamo perdere gli interisti e gli altri quello è normale che gufi non ci sta io li ho gufati fino a ieri sera poi li ho applauditi perché hanno dimostrato di essere nettamente più forti con la TV Croca tra l'altro di Trevisani pensa a questo come sta a vedere tutto questo schifo come starà godendo pensate a questo come starà godendo e invece l'ha preso nel culo lui e tutti i gufi che sedicenti tifosi giuventini noi ce ne andiamo in finale noi ce ne andiamo in finale da sabato mi aspetto tutt'altra Juve altrimenti devo dire siete dei figli di puttana da sabato mi aspetto tutt'altra Juve e e che dire vi amo bastardi un'altra Juve un'altra Juve